Prima di invitare Ignazio Messina a fare il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Termine deve fare il sindaco della città di Sciacca. Inizia così la nota in difesa di Messina dopo l'intervista rilasciata sabato scorso al nostro telegiornale dal primo cittadino da parte del circolo Malina San Michele di Fratelli d'Italia, quello preseduto dall'architetto Ignazio Gallo, il quale sottolinea come debba essere chiaro all'attuale amministrazione che oltre alla gestione dell'ordinario, che è un po' la critica che aveva fatto Messina, debba essere garantita la creazione di nuove opportunità di sviluppo e certezze a lungo termine che rappresentano l'innesco, dice Gallo, per l'avvio di investimenti nel nostro territorio e la materializzazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Ignazio Gallo accusa Fabio Termine e i suoi assessori di scarsa visione sulla necessità di avviare azioni propositive nel lungo periodo. Viene dunque proposto in un comunicato stampa diramato questa mattina un elenco di presunte inadempienze dell'amministrazione in carica da meno di cinque mesi dall'assenza dell'elaborato di aggiornamento del PRG richiesto due anni fa dalla Regione all'assenza del piano attuativo della zona industriale di Contrada Santa Maria e ancora dalla mancata redazione del PUDM, il piano urbanistico del demanio marittimo alla presunta scarsa attenzione sul ricorso pendente al Tarra avente ad oggetto gli effetti del piano paeseggistico e infine la necessità di attivare scelte anche impopolari per risolvere problemi idrogeologici in via Lido la mancanza di notizie sul prossimo carnevale, la necessità di agevolare in tempi brevi il nuovo regolamento edilizio la mancanza di iniziative nel settore dell'agricoltura e in quello della pesca le questioni idrogeologiche rimaste aperte sul torrente San Marco della Foggia Per Gallo una cosa è certa, ad oggi, osserva, il presidente Messina con la parte consigliare opposta a quella che sostiene il sindaco non sono venuti meno alle esigenze del territorio e dell'intera città tanto è vero che si sono convocati tempestivamente consigli comunali su temi dichiarati urgenti dall'amministrazione anche se poi, e senza eronia, precisa Gallo, tali temi si sono dimostrati non urgenti Fin qui la presa di opposizione di Fratelli d'Italia a prescindere dal merito delle questioni sollevate non può sfuggire politicamente al fatto che a controreplicare a Fabio Termine che da parte sua aveva risposto alle critiche di qualche giorno prima di Ignazio Messina sia stata una forza politica, quella composta dai Meloniani che è stata soltanto l'ultima arrivata nel parterre che l'ex sindaco aveva costruito per vincere le elezioni facendolo peraltro solo tra il primo e il secondo turno posto che al primo turno Fratelli d'Italia era dalla parte di Matteo Mangiacavallo Silenzio invece sia dalla lista che fa capo allo stesso Messina e che porta il suo nome sia, come sarebbe stato forse prevedibile, da parte dell'intera coalizione a partire dalle componenti che si erano presentate al primo turno anche se nei giorni scorsi si sono verificati cambiamenti piuttosto sostanziosi a partire dalla trasformazione del gruppo insieme per Sciacca in democrazia cristiana forse è solo un caso, forse no fatto sta che in politica anche il silenzio talvolta può assumere dei significati